Ciao a tutti, siamo Enzo e Chiara, in missione per Lisbona. Che qui è? Camões. Che? Camões. Devo prendere un caffè a Brasileira. Che! 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 Bene, abbiamo visto anche l'elettrico, il famosissimo tram di Lisbona. Adesso dobbiamo vedere cosa ci riserva questa spentica città. C'è di più di buonissimo, guarda. Ma è interessante. No, c'è di più di buonissimo, guarda. Chi? Chi ha detto? L'isabona, sì. E chi fa? L'isabona, sì. E chi fa? L'isabona, sì. L'isabona, Dahna, f breve, le va? L'isabona, sì. L'isabona, sì. E chi fa? L'isabona, sì. cellohertz direttri, E chi fa? Si fa? Eccoci sulle lettere, con il numero 10, che ci porta il castello di San Giorgio. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info E ora ci troviamo nell'Alfama, il quartiere più antico di Bisbona. Tipiche sono le Aslejos, le piastrelle di Vincamano. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info. Grazie. 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 Grazie.